salve a tutti ragazzi qui è francesca siamo in un nuovo video di gta faremo una puntata di cazzeggio e qui con noi c'è un ospite speciale salve a tutti ragazzi qui è joseph gamer bene si sono addirittura un ospite sul mio canale devi procedere verso sopra cioè non fare giri su te stessa ok procedi verso l'alto cane come si chiama si chiama chop lo conosci chip e chop no vabbè chip dov'è no chip non la so dov'è solo chop ok sali un po va dove vogliamo andare che vogliamo fa andiamo port zancudo ci stai non te lo dico cos'è port zancudo cos'è non te lo dico poi lo scoprirai no attenzione no no me la spasci me la spasci posa quando corre veloce è la più veloce del gioco almeno credo aspetta questo ragazzi non mi ricordo qual è la più veloce del gioco ditemelo nei commenti attenzione ferma no 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 ferma no lo sapevo lo sapevo piccolo incidente ma vabbè comunque stavo dicendo port zancudo sarebbe una base militare la più potente del gioco che non appena ci metti il piede ti distruggono completamente ci vorresti andare ovvio di sì perché c'è anche ovvio di no ovvio di no attenzio ma vedi che la spasci così la spasci allora dobbiamo andare quindi a scassare tutto sì ti va cioè vedi un po come è vestito e perché perché è troppo gangsta troppo gangsta sì quindi vorresti qualcosa di più sistemato sofisticato sai allora metti start metti start sì così vediamo un po la mappa vai che ne so in uno di questi sì vai qui dai sì 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 crociati fin qui ci arriviamo secondo te senza sfasciare l'auto fin in fondo questo no ecco ecco dovresti garantirmelo attenzione ragazzi mi sembra conllevato l'auto salva ferma siamo lieti che io non guidi nella realtà ferma ferma mamma mia cioè guarda qui ragazzi io non ci vengo in macchina con te non ci vengo mai più nella realtà non guido così dai nella realtà è meno male chi ci viene con te ma ti rendi di quello che stai combinando ok ci siamo quasi svolta qui a sinistra dopo svariate peripezie si infatti abbiamo tagliato qualche scena altrimenti non ci arriva non ci arrivavamo in italiano come arrivavamo sì cosa qui questa ecco detto che faccio il parcheggio il parcheggio ragazzi attenzione vabbè non ci sono altre auto quindi non potevi sfasciare tutto no 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 lo sapevo ok come potevo vabbè comunque cos'è sta visuale ok ok il negozio ok non è questo non è questo è l'altro ecco lo sapevo che ferma 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 no perché la importuni come si vincchiano le persone perché al momento non è importante sì è questo devi entrare qui ok beh a me tutti i soldi no no noi siamo persone per bene e acquistiamo cose per bene perché non sportivo ragazzi c'è ora io ho un abbigliamento eccezionale guardate quanto è figo fallo vedere quanto è figo ecco ora lei mi rovinerà del college sì ma ora mi rovinerai diciamo lo swag che al momento il mio personaggio vabbè premi destra va ok ecco c'è che c'entra il cappello che al momento non si può togliere quel cappello non lo so se adesso si può togliere ma comunque scegli il capo che vuoi abbinare al cappello molto figo da beh no dai ma così non c'entra niente questo è il fiftysand ma che c'entra anche lui si muove magari un po da gangsta ma quanti santi posso spendere puoi spenderli tutti vabbè detto questa è una donna è completamente sbagliato ardesia vabbè comprano 4.900 dollari che poi perfetto no vabbè comunque b ecco non c'entra assolutamente niente di sbaracciarci di questo cappello cappello penso non si possa levare le cinture non le posso mettere no le cinture no c'è il vestito ci sono le scarpe vedi le scarpe vabbè non importa e perché ti rimani il cappello lo santo attenzione vai a sinistra comunque ragazzi fatemi sapere se volete qualche partita appunto con la mia ragazza anche su quello video di ghost ovviamente sarà ancora più figo lì perché sappiamo giocare entrambi benissimo facciamo un puntino sì sì infatti siamo troppo forti vorrei partecipare ai convegni no no i convegni i convegni non c'è l'hai vista questa cioè per parlare l'hai investita poverina attenzione vai a partecipare ai tornei forse sì ecco mi sa che volevi dire attenzione mamma mia che azione per francescat game ok ragazzi siamo arrivati a fort zancudo ha inserito il trucco delle invincibilità altrimenti ci avrebbero fatto fuori nel giro di tre secondi hai delle armi vabbè come si deve puoi procedere va forte zancudo arriviamo no no ok saltato prima del dovuto bene procedi allora il nostro obiettivo è ovviamente come al solito prendere il car armato oppure il jet ci stai sì però posso fare prima tanti simi headshot headshot cioè cappelli spari eccolo lo vedi questo questo è un car armato voglio uccidere prima lui se lo so l'ha scammazzato l'amico prenditi il car armato attenzione o mio dio mi ha distrutto il vestito vieni qui no mi ha distrutto il car armato prendi questo prendi questo car armato si si vai che ci entro vai vai ci siamo ok ora puoi scammazzare completamente ogni tipo di nemico si spara solito cioè con sempre con questo qui ok hai perso hai perso il devi ritornare su un altro vai su un altro niente capace di spiegare io cioè allora devi entrare ecco dopo di che spari come al solito se non mi sbaglio gli stassi sono quelli forse questo cambia ok ok è questo vai ora troviamo il jet quindi il primo il car armato già l'abbiamo trovato il jet si trova nelle zone torna indietro io dico indietro lei va avanti un attimo ok ecco è scammazzato quello si trova lì lo vedi quello c'è il buzzard la i palli un car armato un car armato non ce l'ho per natale mi dispiace mi mancano 10 euro per arrivarci al car armato se il jet si ma il car armato non può c'è la prima volta che vedi impennare un car armato è solo con te due ruote ok ora qui c'è il buzzard e poi se ti volti sulla sinistra ecco vai avanti non parlare con termini tecnici c'è il buzzard c'è elicottero come vuoi chiamarlo ora devi entrare lì ecco dovevi avvicinarti di più però col sono invincibile sei invincibile vabbè però nel frattempo il jet no cioè esplode questo ora premio vai vai vediamo se riesce ad entrare sperando che non ci uccidano cioè che ti uccidano non ci uccidano però comunque potrebbero far fuori completamente il jet ora come si filota come si filota ok tira verso giù e lui inizia a partire vedi 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 bene ora no no stai cadendo no stai cadendo non è possibile vabbè per fortuna abbiamo l'invincibilità e stiamo ancora in vita ora ok qua c'è un missile attenzione no no fai una cosa no no è inutile già esploso è già esploso no non parte il missile allora ora vai a prenderne un altro dovrebbe esserci un altro non sono sicuro ecco tutto a piedi vai vai premi y e vola subito via mamma mia che delicatezza parti è esploso di nuovo non è possibile ragazzi cioè ormai abbiamo perso completamente quelle sono cuffie da gaming vai vai ce n'è un altro ora però non appena entri in questo jet devi subito partire perché anche poche invincibilità 33 secondi cosa è successo va vai parti parti no sei distrutto no no parte parte vabbè ragazzi siamo morti qui perché non fare eh non parte ragazzi c'è mi sa che si sono fusi i motori devi scendere no no ce la faremo ce la faccio ce la faccio no stai per morire non morirò ragazzi non incominciamo a salutare speriamo che questo video vi sia piaciuto vi ricordiamo di lasciare un mi piace un commento e di iscrivervi al canale nel caso in cui non state già iscritti perché ovviamente tra poco moriremo non moriremo si si lo sappiamo già ma non moriremo ragazzi mi raccomando lasciate anche un commento fatemi sapere se volete altri video con francesca trucco di visibilità no vabbè finito non è invisibilità ma è invincibilità quindi ragazzi vi salutiamo e alla prossima ciao ciao